Il 18 giugno, terminato il calcolo delle schede, la Corte di Cassazione proclama ufficialmente la vittoria della Repubblica. L'Italia ha scelto. Sulla torretta del Quirinale viene ammainata la bandiera con la croce di Savoia. L'Italia è Repubblica. La Repubblica è nata. Gli italiani si lasciano alle spalle una monarchia, una dittatura e due anni di guerra civile. Non è stato facile. Molti non ci sono più. Altri sono vivi e hanno vinto. C'è poi chi ha perso e chi è stato solo a guardare. È l'Italia del 46. Qui inizia la nostra storia. Qui, oggi, inizia il nostro racconto.